Il grande Mika! Ciao Mika, buonasera, come stai? Bene, bene, emozionato? Sì, contento di essere qua, ciao a tutti, buonasera! Mika, non riusciamo più a trattenerli! Ma so che voi avete aspettato tanto! Sì sì sì, lo so, anche ogni sera, forse anche ieri, giusto? Ok, allora, infatti io devo andare a cantare sul palco fra poco, però mi sono detto vengo qui e canto due canzoni e poi canto l'Areston e torno! Grazie! In questo freddo inaspettato che abbiamo visto a Sera, stanno arrivando... Allora! 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 Allora!